L'Isernia ha ospitato e battuto la Volturnia. Per proseguire la risalita in graduatoria, il città di Isernia affronta la Volturnia in piena crisi di risultato. La squadra di Bonomi ha secco di punti da ben quattro turni. Era lo scorso 26 settembre. Data del successo interno, un pirotecnico 4-3 a spese del Pietramonte Corvino. A capo della Terna, il signor Pascuccio della sezione di Ariano Irpino. 11.30 annulata una rete a panico. Stoppa a seguire con il braccio. Netta la scorrettezza del bomber bianco-celeste, sanzionato con un cartellino giallo. Al quarto d'ora schema da corner, Mingione riceve corto e smista al centro. Impatta Vallefuoco, che timbra la traversa. Un minuto più tardi alla volta di Savarise, che si coordina dalla distanza, ma la gira sul fondo. Al ventesimo, altro pericolo per gli ospiti. Punizione dalla destra nella mischia, colpisce Di Leonardo dopo l'uscita di Avicolli. 25, episodio che la sblocca. Vallefuoco in acrobazia, pallone intercettato in maniera irregolare in aria da Iannetta. A detta di Pascuccio, che concede il penalty ed ammunisce il difensore ospite. Panico si fa ipnotizzare da Avicolli, ma è scaltro nella ribattuta di testa. Sigla l'1-0 per Liserni. Al ventisettesimo, timida reazione dell'undici di Bonomi, con l'avanzata di Gentile, che non mette neanche i brividi ad Amoroso, che accompagna con lo sguardo. 35 di Giulio sulla destra, riesce a lavorare un buon pallone per Petrone, che non sfrutta come meglio può. Al quarantesimo fa parlare di sé anche Dovidio, Avicolli in due tempi. Riesce ad impadronirsi del cuoio, ultimo sussulto prima dell'intervallo, il calcio piazzato di Panico, che sorvola il montante. Sempre ai pentri nella ripresa, con il montaggio tecnico di Antonio Di Perna. Mingione soffice per Panico, troppo debole per impensierire l'estremo difensore avversario. Porta diversi giocatori offensivi dalle parti di Avicolli. Liserni a Di Giulio per Vitale, che colpisce però male. Al quarto d'ora i bianco celesti riapplicano la legge di Panico, che riceve da Barile di prima intenzione fulmine Avicolli. Per lui si tratta del quattordicesimo centro in campionato, in otto incontri. Sempre il capocannoniere dell'eccellenza, si porta il pallone sul destro. Siamo al ventitresimo, una serie di rimpalli. Favoriscono Petrone, va a segno Mingione, tutto invalidato per posizione irregolare. Al ventinovesimo, tiro dalla bandierina per Dovidio. Che disegna per l'elevazione di Vallefuoco, nessun grattacapo per l'estremo difensore della Volturnia. 33, calcio da fermo in favore degli ospiti. Ribatte la barriera, D'Alessio con il mancino la spedisce lontano dalla porta bianco celeste. Altra rete annullata, la trentaquattresimo per la squadra di De Bellis. Schema da calcio 5, rasoterra di Mingione sul secondo palo per Lombardi, che marca inutilmente. Quarantesimo ci prova con il gioco aereo. La formazione locale, questa volta il anneo è entrato coia ad innescare il solito Vallefuoco. Poco incisivo nella circostanza. Soddisfazione personale invece nel recupero anche per Vincenzo Mingione. Con un mancino chirurgico, la mette dove non può nulla il portiere. 3-0 il definitivo. Seconda vittoria della gestione De Bellis per il Città di Sernia. che mercoledì sarà di scena alla Civitella nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia regionale contro l'Olimpia agnonese.